La filosofia di Sartre è difficile da vivere. Ciò che dobbiamo fare, ha detto, è impegnarci senza sosta. Nessuno scrittore può accettare il totalitarismo implicito dall'espressione natura umana. Se scrive, lo fa perché vuole cambiare il mondo e se stesso. Scrivere è un atto, è impegno, e Sartre si è impegnato tutta la vita. Così John Gerassi, figlio di Fernando Gerassi, pittore che tentò di difendere la Repubblica nella guerra civile spagnola, saluta Jean-Paul Sartre sul quotidiano Newsday il 17 aprile 1980. Per l'intellettuale americano siamo tutti figli di Jean-Paul Sartre. Padre delle nostre idee e del nostro linguaggio, avrebbe influenzato anche coloro che abbandonarono le sue battaglie, dando vita alle filosofie strutturaliste e post che dichiararono la morte del soggetto e dei valori, etichettando come ideologia, o peggio, metafisica, ogni filosofia che avanzasse, pretese normative. Sartre ha fatto di una libertà ontologica il senso del suo impegno intellettuale, una libertà che poi sarebbe diventata sempre più incarnata all'interno di una filosofia della storia, in dialogo critico con Hegel e con Marx, e che solo avrebbe potuto fondare tutti i valori, con aspirazioni universalistiche che addirittura riecheggiavano l'imperativo categorico kantiano. Dopo un lungo periodo di notorietà, dagli anni 80 in poi, il padre dell'esistenzialismo ha però attraversato un duraturo oblio. Eppure Sartre ha inventato una filosofia, l'esistenzialismo, una riflessione lucida ed enciclopedica sulla condizione umana e sul senso dell'esistenza, le cui domande non possono che essere riconosciute come attuali. Qual è il fondamento di ogni scelta individuale? Com'è possibile trascendere con la propria praxis una realtà oggettiva, opaca e abitata dalle controfinalità del pratico inerte? Come conciliare una libertà individuale assoluta con l'emancipazione e la liberazione concrete degli oppressi? Come orientarsi al di fuori del sistema capitalistico quando l'alternativa al fantasma di Stalin produce nuove serializzazioni e un terrore che non fonda una fraternità etica? Sartre che usa Husserl contro Heidegger, Freud contro Marx, Marx contro il marxismo e Kierkegaard contro Hegel, e che si scaglia contro Kant conservando di Kant molto più di quello che vorrebbe conservare. Glielo fanno notare dopo la celebre conferenza del 45, la sua è ancora un'etica borghese, che non riesce a interpretare i bisogni e le lotte del suo tempo. E così il filosofo si convince, l'esistenzialismo non può che porsi al servizio del marxismo, integrarlo laddove quello rischia il dogmatismo e si lascia sfuggire alcuni aspetti fenomenologici e antropologici della realtà. Per poi concludere alla fine della sua vita che la sinistra è morta, anche se non bisogna disperare di fronte allo scacco, ma mantenere la speranza come propria concezione e forma del futuro. Tracciare un bilancio complessivo del rapporto tra Sartre e il marxismo, sia come teoria filosofica, economica e politica, sia nelle sue incarnazioni storiche, è perciò un arduo compito, che rischia da un lato di disegnare un ritratto in debito di un filosofo che non può mai vantare la coerenza tra le sue idee, anche se almeno può farlo tra le sue idee e le sue azioni, e dall'altro di appiattire la riflessione di qualcuno che ha osato pensare contro se stesso, a un superamento delle sue inquietudini interne. Come l'esistenza umana, il per sé dell'essere il nulla, come la storia forata del secondo tomo incompiuto della critica della ragione dialettica, come Flaubert nel suo percorso di interiorizzazione e esteriorizzazione, anche Sartre non si lascia facilmente ridurre. In questo contributo cercherò quindi di rendere giustizia all'avventura filosofica di Sartre nel suo fertile dialogo con il marxismo, evidenziando gli snodi critici e il suo tentativo di progettare un esistenzialismo marxista e non, come con cautela spesso si propone agli stessi, un marxismo esistenzialista. Nel 49 Sartre elabora il lutto del suo tentativo di trovare una terza via tra il modello statunitense e l'Unione Sovietica, tra il capitalismo e il partito. Temendo di risultare eccessivamente tiepido nel suo antiamericanismo, egli abbandona il progetto di costituire l'Assemblement Democratique Revolutionaire e decide di avvicinarsi al partito comunista francese. Come accadrà anche per quanto riguarda la stesura della prefazione ai dannati della terra di Franz Fanon, Sartre è qui preoccupato di non essere abbastanza incisivo, brutale e schierato e di poter essere identificato come un intellettuale borghese che gioca a parlare di lotta di classe. L'intellettuale vuole contribuire ai movimenti di liberazione della storia a tutti i costi. Scrive nel luglio del 52 sulle Tom Moderne i comunisti e la pace, che costituisce il suo tentativo più credibile, ma forse in mala fede, di difendere le politiche del blocco sovietico. Cito, sono stato per poco tempo un compagno di strada, lo sono stato nel 51-52, sono andato in Unione Sovietica verso il 54 e quasi immediatamente dopo, con le manifestazioni in Ungheria, ho rotto con il partito. È questa la mia esperienza di compagno di strada. Quattro anni. Chiuserà sulla vicenda Sartre nella sua ultima intervista. In effetti, dopo la rivoluzione ungherese del 56 e ancora di più dopo la primavera di Praga del 68, egli si scaglierà violentamente contro la stessa idea di partito, recuperando dubbi e perplessità già esposti negli appunti su una possibile morale esistenzialista scritti intorno al 47-48. Nei comunisti e la pace troviamo un intellettuale che prova a mettere a tacere il suo stesso spirito critico, sperando così di servire la giusta causa. Sartre sa perfettamente di doversi appoggiare a delle forze storiche che agiscono collettivamente con un fine che sembra, almeno per il momento, essere comune. Certo, il partito non sarà il gruppo in fusione della critica della ragione dialettica, anzi, tuttavia all'inizio degli anni 50 sembra lecito chiedersi, cito, come è possibile credere alla missione storica del proletariato e nello stesso tempo al tradimento del partito comunista? Non vi possono essere per Sartre vie di mezzo, vie cioè socialdemocratiche. Le masse godono, almeno da un punto di vista formale, delle libertà garantite dalla democrazia. Sono i vantaggi derivati dal fatto che il governo francese ha firmato il patto atlantico. Tuttavia per Sartre la libertà promossa dalla borghesia non è altro che un intero palliativo, che non può che condurre alla rassegnazione del proletariato. Contro il direttore del Frank Thürer, che esprimeva un punto di vista socialdemocratico, Sartre tuona. Il discorso è vecchio, da 162 anni a questa parte, né il rimedio né il male sono cambiati e, a furia di cercare le pulci al partito comunista, siete diventati miopi. Egli riconosce che anche se l'Unione Sovietica non ha ancora realizzato le sue premesse e promesse, ossia un socialismo reale, cito, il rivoluzionario che vive nella nostra epoca e il cui compito è quello di preparare la rivoluzione con i mezzi che ha a disposizione e nella situazione storica in cui si è venuto a creare, a trovare, scusate, senza perdersi in speranze apocalittiche che finirebbero per distorglielo dall'azione, deve associare indissolubilmente la causa dell'Unione Sovietica a quella del proletariato. Nel testo del 52 gli stessi presupposti dell'esistenzialismo si devono piegare alle urgenze del tempo. Se l'intellettuale di che cos'è la letteratura ambiva a instaurare un patto di generosità con il suo lettore, adesso gli deve anzitutto occuparsi concretamente dei bisogni di un operaio che non ha alcun contatto diretto con il mondo della cultura. E Sartre sostiene qualcosa di estremamente discutibile quando afferma che un operai addetto agli stampi, cito, rinuncerebbe volentieri alla libertà di parola se venisse liberata dal ritmo lacinante delle macchine, dall'eteronomia dei lavori, dal freddo, dalla triste architettura delle fabbriche. Insomma, che la libertà esibita dalle democrazie occidentali sia attraente solo per una borghesia che si trova a suo agio nel ruolo gerarchico dell'oppressore? Le leggi del mercato vengono presentate come necessarie. Non è colpa del padronato se il salario è insufficiente. Questo determinismo viene accettato acriticamente perché intanto si conquistano libertà politiche. Come rimarcherà anche in futuro, Sartre ritiene che perfino il suffragio universale sia solamente un diversivo. Nel 73 scriverà un articolo intitolato Elezioni trappola per Gonzi. Come accennato, Sartre rinnegherà quanto scritto in questo testo, soprattutto per quanto riguarda la positività del legame tra il proletariato e il partito. In generale non difenderà più con tanto vigore l'operato dell'Unione sovietica, una sorta di totalizzazione deviata ma in movimento e non un totalitarismo immobile, nemmeno in chiave antiborghese e anticapitalista. Nel già citato fantasma di Stalin dirà quel socialismo nel cui nome i soldati sovietici hanno sparato sulle masse in Ungheria io non lo conosco, non posso nemmeno concepirlo. Nella ragione di Stato che oggi può invocare non si può trovare che un vago riferimento a un socialismo futuro. La lotta concreta delle masse è affogata nel sangue. Similmente nel secondo volume della critica dirà la rivoluzione proletaria nell'Unione sovietica, anziché essere un fattore di liberazione e di emancipazione delle masse operaie europee, come avrebbe dovuto essere, si realizza sprofondando quelle masse in una relativa impotenza. Per non parlare di quanto scriverà in Il socialismo venuto dal freddo, dove giudicherà duramente la repressione cecoslovacca del 68. Ciò che però Sartre non rinnegherà dai comunisti la pace sarà il suo tentativo di sottolineare, seppur a malincuore, che non è possibile ricusare la violenza in una condizione disumana. La morale, lo stesso esistenzialismo, cioè una filosofia della libertà, saranno possibili solo quando si uscirà dalla condizione di subumanità, che riguarda contemporaneamente le discriminazioni basate sulla razza, che si riproducono nello sfruttamento del terzo mondo, quelle basate sul genere e sulla classe. Seppur con un approccio più marcatamente critico, anche negli anni 60 il marxismo per Sartre si qualifica come filosofia insuperabile del proprio tempo. I testi più importanti di questo ripensamento del rapporto tra esistenzialismo e marxismo sono le questioni di metodo del 57, la conferenza di Aracuara in Brasile dal titolo Esistenzialismo e Marxismo del 60 e la conferenza di Roma all'Istituto Gramsci del 61, Marxismo e soggettività. Anzitutto ciò che accomuna tutte queste riflessioni è il fatto che per Sartre la filosofia sia inevitabilmente pratica, lungi dall'essere uno studio teoretico o un'analisi contemplativa. Esse è un pensiero sulla realtà che non solo la interpreta ma anche la trasforma. D'altronde già nell'essere il nulla la libertà era la continua e inevitabile possibilità di negare uno stato di cose presente in vista della realizzazione di uno stato di cose futuro, insomma un potere di trasformazione. Nella conferenza in Brasile dirà nel secolo XIX si è verificato un fatto di primaria importanza, la filosofia è diventata pratica. Essa compromette totalmente il filosofo per il quale non è più soltanto una visione del mondo, una conoscenza dogmatica o relativistica, ma è al tempo stesso un'azione sul mondo. In questo senso essa nasce dall'azione e prepara l'azione. Nel momento in cui Sartre decide di mettere da parte l'interesse per l'esistenza individuale, ciò che veniva criticato come esistenzialismo borghese più un epigono bohemian che è una filosofia impegnata, la sua filosofia della libertà diventa una filosofia della liberazione, tutta focalizzata sulla praxis e sulle concrete possibilità di emancipazione collettiva. Come correttamente ricostruisce Luca Basso, cito, il punto di continuità con l'essere il nulla consiste nel riconoscimento della crucialità del concetto di libertà, con le sue radici complesse, stoiche, cartesiane, ma ancora di più illuministiche. La libertà viene interpretata come liberazione, sulla base di una dinamica espansiva che coinvolge una molteplicità di soggetti, ma rispetto ai primi testi sartreani la libertà viene circoscritta e articolata, anche tenendo presente che il pratico inerte non scompare mai completamente, permane quindi un fondo oscuro. L'esistenzialismo, così come era stato formulato nel 43, non prendeva allora abbastanza sul serio lo spessore della situazione. Infatti nelle questioni di metodo Sartre non ha dubbi, c'è stato il momento di Cartesio e di Locke contro le sintesi dell'aristocrazia feudale, c'è stato il momento di Kant e di Hegel come nuova forma di borghesia, ma ora è quello ancora insuperato di Marx. Cito, la filosofia e la totalizzazione del sapere, delle rivendicazioni dei rapporti di forza di una data epoca. Non è possibile sfuggire alle sue categorie, pena diventare inattuale, o perché non è ancora il tempo di una filosofia della libertà, non è cioè ancora il tempo dell'esistenzialismo, ora solamente un'ideologia, o perché si ricade in modo retrogrado nel passato. Cito, un argomento antimarxista è solo il ringiovanimento apparente di un'idea pre-marxista. Solo il marxismo è in grado di cogliere il primato del lavoro e della praxis e raggiungere l'uomo concreto nei suoi bisogni. Come sostiene anche in Brasile, nessuna modifica della realtà è sufficiente se permangono profitto e plus valore, se si conserva la pratica dello sfruttamento anche nel caso in cui essa assumesse caratteristiche più umane e accettabili. Adesso, se l'esistenza è uno scandalo, non è più per il suo essere gettato in una contingenza gratuita, bensì per il suo essere storicamente collocata in un sistema di oppressione e sfruttamento, il cui orizzonte è peraltro una condizione che nella critica sembra addirittura naturale, al di là dello sviluppo storico, ossia la penuria. Tuttavia il marxismo ha subito i contraccolpi della sua incarnazione storica in un paese ricco di contraddizioni, quali l'Unione Sovietica. Un altro scandalo. Il marxismo non si è realizzato in Occidente, né tantomeno in una società affetta da un capitalismo in stadio avanzato. Significa, e uso l'espressione di Sartre, particolarizzare il marxismo stesso. Ciò ha contribuito a produrre una vera e propria separazione della teoria dalla pratica, cito, che ebbe per risultato di trasformare questa in un empirismo senza principi e quella in un sapere puro e rigidito. La politica dei partiti sembra essersi allontanata dagli stessi valori che hanno ispirato il socialismo, laddove il marxismo come teoria si sta fossilizzando in una sorta di dogmatizzazione. Il marxismo è la filosofia insuperabile del tempo, ma non sembra avere quella vitalità necessaria per superarsi e approdare una filosofia della libertà. A differenza che nei comunisti e la pace, nelle questioni di metodo e nella critica, Sartre attaccherà fortemente la burocrazia sovietica e, in generale, i partiti come nuove forme di serializzazione che seguono il raggiungimento del fine del gruppo infusione. Nei momenti rivoluzionari che si oppongono alla serialità, la praxis collettiva riesce davvero a combattere per un fine comune. Certo, non è un momento eticamente edificante, dato che la sua controviolenza conduce alla fraternità terrore, la moltiplicità dei terzi, e queste sono entrambe le rivoluzioni paradigmatiche della storia, cioè quella francese e quella d'ottobre. Tuttavia è un momento che potremmo caratterizzare con un'espressione ripudiata da Sartre, di maggiore autenticità. Una volta che il gruppo decide di stabilizzarsi e istituzionalizzarsi, esso produce una nuova serialità, quella che Basso definisce una situazione disciplinata e disciplinante, avvicinando Sartre alle riflessioni fucoltiane. Non abbiamo quindi in Sartre una dialettica positiva, non è nemmeno propriamente una legge interna alla storia, ma un movimento circolare di ripetizione e invenzione, meglio a spirale, dove ciclicamente esplodono le contraddizioni interne a un sistema, senza però poter essere definitivamente superate in un'assenza finale di inquietudini. Come giustamente evidenzia Basso, cito, la circolarità della storia non viene a configurarsi in termini di eterno ritorno dell'uguale, piuttosto tale riferimento fa emergere la precarietà del percorso. La dialettica si gioca quindi nella relazione tra le varie praxis e tra queste e le controfinalità del pratico inerte. Nell'introduzione a marxismo e soggettività, Giacomo Marramao giustamente sottolinea, rompere con la scolastica marxista significa assumere non solo il soggetto, ma la stessa dialettica in situazione. E nella conferenza in Brasile Sartre dirà, la vera dialettica può apparire come una relazione degli uomini tra loro e ancora, l'origine della dialettica è la praxis e non altro. Essa è l'origine vivente della dialettica, non c'è nessuna legge piovuta dal cielo che dice che ci sarà una tesi, un'antitesi e una sintesi. Ciò non esiste e quel che è reale sta nel fatto che noi stiamo perpetuamente in rapporti o univuci o reciproci con esseri che sono oggetti o uomini e che proprio all'insieme di questi rapporti, mostrandosi sempre sotto forma di contraddizione, di lotta e di loro soluzione, dà origine infine alla storia. La praxis, attività totalizzante, processo di totalizzazione ma mai totalità, fatta e condizionata dalla storia, fa e condiziona la storia. L'uomo esteriorizza quindi in azione ciò che è interiorizzato dalla situazione. È questa la nuova idea di libertà di Sartre, dove il libero progetto esistenziale lascia il posto a una praxis che nei suoi sforzi oggettivi è sempre alienata. È quindi necessario abbandonare un certo feticismo marxista per una comprensione più aperta e sintetica della praxis umana, da cui il senso di un esistenzialismo che si è sviluppato ai margini del marxismo e non contro di esso. Ecco perché, cito, per essere più preciso noi aderiamo senza riserve alla formula del capitale, con cui Marx intende definire il suo materialismo. Non appena esisterà per tutti un margine di libertà reale oltre la produzione della vita, il marxismo avrà fatto il suo tempo. Una filosofia della libertà ne prenderà il posto, ma non abbiamo alcuna maniera, alcuno strumento intellettuale, alcuna esperienza concreta che ci permetta di concepire questa libertà ne questa filosofia. Tuttavia, questo non significa disfarsi della soggettività, una volta e per tutte, se non nel senso in cui è possibile andare oltre alla stessa contrapposizione tra soggetto e oggetto, ma in una modalità diversa dal superamento hegeliano. In apertura a marxismo e soggettività, Sartre critica la dialettica idealistica che esclude il soggetto di Lukács. Secondo il filosofo francese, non è un'interpretazione fedele dello stesso Marx, che avrebbe connesso bisogno, lavoro e godimento a una trascendenza, ossia un'esplosione di sé verso, espressione già utilizzata da Sartre in un articolo del 39 per riferirsi all'intenzionalità austerliana. Questi tre termini attestano per Sartre la presenza della nozione di soggettività nel marxismo. Si riferirà addirittura a una soggettività pura quando l'interiorità funge da mediazione tra due momenti dell'essere trascendente. Per Sartre la conoscenza soggettiva trasforma costantemente l'oggetto, come l'antisemita che sposta la sua attenzione dall'oggetto ebreo a se stesso come oggetto antisemita. La soggettività è una mediazione tra due oggettività, è ciò che trasforma un momento di esteriorizzazione in quello sul successivo. Dice Sartre, se la soggettività può rendersi manifesta, è per la differenza che c'è tra ciò che la situazione comunemente richiede e la risposta che le si dà. Soggettività, singolarità, singolarizzazione. I tre termini si sovrappongono per rivendicare il primato della praxis in situazione, che si contrappone alla pura inerzia. L'intento di Sartre in questi anni sarà sempre quello di comprendere oggettivamente una soggettività che in quanto tale sfugge al sapere riduttivo, è l'universale singolare. È quanto aveva fatto con Jean Genet nel 1952, quanto farà con Flaubert nel monumentale L'idioto della famiglia 71-72, ma anche con Stalin, secondo Tom in compiuto della critica. Prendendo esempio Michel Lerine, il testo chiamato Paul, che voleva intitolare Le thème moderne Gravouges, in virtù del suo passato surrealista e di una certa interpretazione della violenza diretta contro la borghesia, Sartre ci dirà, il suo passato è lì, tutto intero, ma nel modo del non sapere, della non coscienza, della sua necessaria riassunzione. Non è un caso che quando Sartre decide di riavvicinarsi, seppur in modo critico al marxismo, contemporaneamente si riconcilia anche con la psicanalisi freudiana, dopo aver tentato di fondarne una sua nella quarta parte dell'essere il nulla, una psicanalisi esistenziale che rifiutava qualsiasi fonte di condizionamento e di determinismo. Marxismo e psicanalisi aiutano Sartre a comprendere in che modo una libertà assoluta dei jure si ritrovi poi allenata de facto nei condizionamenti della situazione, invischiata sia nel proprio passato, sia nei meccanismi socio-economici della materialità e della produzione. Certamente l'uomo contemporaneo non può prescindere dal sistema capitalista in cui è inserito, in questo senso la psicanalisi considera troppo l'individuo e poco il contesto sociale. Tuttavia il marxismo spesso si occupa del proletario e del borghese quando sono già adulti inseriti nel mondo del lavoro, senza alcun interesse per il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza dove invece vengono introiettate le forme dell'alienazione della propria famiglia e della propria classe. Jean Genet, dieci anni, tu sei un ladro. La sua soggettività si esprime accettando questo destino alienante e sguardo oggettivante che lo incatenano alla ripetizione dello stesso atto. L'uomo si ripete e si inventa. Cito, Grabouge è al tempo stesso una ripetizione e un'invenzione. Il soggetto si proietta quindi in tutti i suoi atti, la soggettività è questa proiezione continua che però sfugge a sapere perché non può accorgersi della sua stessa proiezione. E cito, nel corso della lotta il momento soggettivo come modo da essere all'interno del momento oggettivo è assolutamente indispensabile allo sviluppo dialettico della vita sociale e del processo storico. Nella conferenza di Araquara Sartre espliciterà la sua preferenza per la coppia interiorizzazione e esteriorizzazione piuttosto che soggettività oggettività. Ciò che via di reale è semplicemente un processo di interiorizzazione e esteriorizzazione totalmente oggettivo. Che poi la soggettività sia alienata o meno dipende dal futuro che essa sceglierà per sé. Quando Sartre tornerà a Roma nel 64, l'anno in cui muore quel palmiro Togliatti che Sartre ammirava molto più degli esponenti del partito comunista francese, c'è proprio una sorta di fascinazione di Sartre per il Partito Comunista Italiano almeno da 61 a 64, dirà che l'uomo comunista è il prodotto di se stesso, nel senso che solo colui che si sceglie contro il sistema e non seguendo le norme e gli imperativi per costituiti non sarà un semplice risultato del capitalismo. È quindi necessario reintegrare la libertà nella dialettica, una libertà alienata che anzi si aliena essa stessa proprio nel momento della massima espressione della sua praxis, ossia nel lavoro. Questa è la contraddizione che solo il taxismo può sciogliere praticamente, ma che solo l'esistenzialismo può comprendere nella sua complessità, come indicherà anche il colloquio internazionale su Kierkegaard organizzato dall'UNESCO nel 1964. Di nuovo la singolarità di Kierkegaard contro il soggetto assoluto, il rifiuto di essere ridotto a oggetto di sapere, e come nel caso del filosofo danese, a mera figura della coscienza infelice. Forse anche per questo Kierkegaard si nasconde, cito, più eclimacus vigilius of niensis, meno a Kierkegaard, quel cittadino danese iscritto nei registri dello Stato civile. Bisogna rendere conto di un certo avviluppamento, nozione di Merleau-Ponty, un altro elogio funebre, un altro vivant, che decide dei confini entro i quali le modificazioni reali sono possibili. Eppure Kierkegaard dimostra di non essere una semplice incarnazione dialettica in un dato momento dello sviluppo. Vi ha anche una casualità radicale, pure qui come nelle psicobiografie, torna l'infanzia, un padre cupo, eventi dolorosi, la madre serva padrona, che conduce l'incarnazione sul terreno di una contingenza opaca e singolare. L'incarnazione, termine che viene mantenuto in entrambi i volumi della critica, diventa ancoraggio. Cito, Kierkegaard ha mostrato che l'universale entra nella storia come singolare, in un movimento dialettico di fuga dalla storia e farsi nella storia. Una dialettica che era già presente in un'opera pubblicata postuma, ma scritta immediatamente dopo i quaderni, Verità esistenza del 48, con un nuovo piano per una morale. In quel testo, la storializzazione, come progetto nella storia, si opponeva alla storicità, intesa come espressione di un determinato periodo storico. Già ci si riferiva a un condizionamento, ma ancora si credevano a responsabilità assoluta, morale e individuale, che non sarebbe stata ripresa nella critica. In quest'ultima, la storia si costituisce nella dialettica tra il motore attivo della praxis, una praxis resistente, oltre al significato politico, e un motore passivo, la materialità dell'inerzia. Il movimento non può essere quello lineare e progressivo della dialettica hegeliana, bensì piuttosto quello a spirale, con continue invenzioni ricadute, e il risultato non può essere certo. Il paradiso dei lavoratori non segue direttamente da un'implosione del capitalismo, bensì una possibilità aperta nel caso in cui uno sforzo collettivo di libertà alienate scelga quel futuro e lo realizzi al di là di tutti i rischi di ripiombare nella serializzazione. Ecco perché prima dell'intelligibilità della storia bisogna stabilire se sia possibile un'intelligibilità delle lotte, come viene riportato nel secondo volume della critica. Cito, esse non sono mai, in nessun caso e in nessun luogo, accidenti della storia umana. Esse rappresentano la maniera stessa in cui gli uomini vivono la loro penuria nel loro continuo movimento di superarla. Una disalienazione è quindi possibile, anche se Sartre non riesce mai a indicare un processo realmente vincente nella storia, al di là delle sue breve fascinazioni, come nel caso della rivoluzione cubana. Laddove però nei testi citati la disalienazione si caratterizza come conseguimento storico, risultato delle lotte dei gruppi in fusione per l'emancipazione. Negli appunti in cui Sartre tentò di costruire un'etica, questa possibilità assumeva i tratti di una conversione esistenziale e radicale. Ho ancora tempo? Sì, sì. Ok. Torniamo quindi indietro agli anni 40. Ho scritto una decina di grossi quaderni di appunti che rappresentano un tentativo fallito per una morale. Non l'ho terminata perché è difficile fare una morale. Così Sartre commenta a Sicar il naufragio del suo progetto di scrivere un'etica esistenzialista. In realtà, se quel tentativo fallì, fu per la scelta di Sartre di seguire lo spirito del tempo. Infatti, in quegli appunti incompiuti, mentre il filosofo francese cercava di sistematizzare una morale conseguente all'essere il nulla, stava contemporaneamente pensando a una filosofia della storia in dialogo critico con la dialettica hegeliana e con il marxismo. Come uscire dalle porte chiuse dell'oppressione? Se dagli anni 50 in poi Sartre si sforzerà di immaginare imprese storiche collettive, alla fine dei 40 egli pensava anzitutto a una conversione individuale, anche se già originariamente rivolta a una modificazione radicale della relazione con l'altro. Evidentemente sembra una soluzione per pochi eletti intellettuali borghesi europei. Questi appunti ci sembrano particolarmente rilevanti perché emerge un altro Sartre, diverso da quello abituato a calcare la scena pubblica. Qui Sartre non deve impressionare e non è costretto a schierarsi. Non potendo qui fornire adesso un'analisi dettagliata dei quaderni, mi limiterò a riportare tre aspetti cruciali di questo ripensamento del marxismo. Il primo, la differente concezione di dialettica e di storia rispetto a Hegel e a Marx. Secondo, una critica al concetto di sovrastruttura economica come fattore storico determinante. E terzo, una concezione più critica rispetto alla controviolenza degli oppressi. Anzitutto Sartre contrapone la nozione di totalità detotalizzata alla totalità hegeliana. Al mito hegeliano di un progresso già contenuto nelle sue premesse, Sartre oppone un progresso ristagnante. Cito, in altri termini la storia ha un senso se lo spirito è uno. Nella misura in cui lo spirito è totalità, questo senso esiste, c'è direzione e quindi progresso. Nella misura in cui esso è allenato a se stesso dal nulla che lo penetra, detotalizzazione, non c'è né direzione né progresso, ma ristagno. La situazione è perciò quella di una storia che non è storia, di un progresso ristagnante. Questa concezione assomiglia molto a quella della storia forata del secondo tomo della critica. Anche qui l'elemento che viene sottolineato è la perdita continua della totalità, la sua incessante emoragia, il suo ricambio senza recupero. Proprio come il nulla penetrava nell'essere, secondo i processi di nullificazione della libertà dell'essere il nulla, qui la negazione penetra nella storia, negazione che dipende anzitutto dalla finitezza dell'essere umano. L'eventuale progresso poi non è certamente iscritto in una legge dialettica interna alla storia stessa. Cito, affinché il progresso possa essere uno dei sensi della storia, è necessario che esso si incarni nella storia come progresso voluto, vissuto e sofferto. L'unica evoluzione oggettiva che Sartre ha disposto a riconoscere è quella tecnica, che non ha peraltro condotto a un miglioramento del benessere in termini di giustizia sociale. Anzi, molto spesso questo presunto progresso scientifico ha portato un ulteriore ampliamento della forbice sociale e delle differenze tra le classi con le popolazioni del terzo mondo. Per Sartre la storia non ha un lieto fine precostituito, sia esso il dispiegarsi dello spirito assoluto o il paradiso dei lavoratori al di là della preistoria. Ecco perché egli, nella sua breve rilettura del Medioevo, del sistema feudale e dell'avvento della borghesia, evidenzia il fatto che le contraddizioni non sono progressivi superamenti dello spirito, ma tensioni presenti in ogni tempo. Le contraddizioni sono sempre compresenti, anche se si manifestano diversamente, a seconda delle opportunità sociali, politiche, economiche e tecnologiche di un determinato periodo. Nella pseudostoria, caratterizzata da una quasi dialettica, questi sono i termini che utilizza Sartre per distinguersi da Hegel e da Marx, la storia stessa resiste alla narrazione dialettica. Vi aristagno in questa rappresentazione idealistica del progresso, perché in realtà non è possibile ravvisare una concreta evoluzione morale, ossia dei rapporti tra gli individui destinati a gerarchizzarsi in oppressore e oppresso, le varianti storiche del sadico e del masochista, protagonisti dell'essere per altri, del testo del 43. Inoltre, Sartre non può concordare con la nozione di superamento hegeliana. A questa gli contrappone è la trascendenza, presentata invece come la capacità individuale di negare la situazione presente in vista di uno stato di cose ritenuto migliore e correttivo rispetto allo stato di cose attuale. Se nel superamento il passato si conserva come negato, nella trascendenza esso viene liberamente problematizzato come recupero, negazione, fraintendimento o nostalgia. Questa è un'idea che abbiamo visto svilupparsi nella critica, la dialettica è tra le praxis, non all'interno del dispiegamento storico. Infine, contrapporsi alla dialettica hegeliana e marxista ha per Sartre una ricaduta morale immediata. Se la storia non è altro che lo svolgersi necessario delle tappe dello spirito, della lotta di classe, allora ogni evento sarà già da sempre giustificato. Ma allora, cito, la sofferenza come momento dello sviluppo globale sarebbe giustificata e fusa nel tutto. Ma la separazione delle coscienze implica necessariamente che la sofferenza di chi è stato sacrificato non sia recuperabile. Così il nulla che separa l'una dall'altra le coscienze fa di ogni determinazione di queste coscienze un assoluto. Per Sartre non vi è alcuna possibilità di riscatto individuale in una totalità, perché questa totalità non esiste. Se si sacrifica qualcuno all'altare della storia, non vi sarà alcuna possibilità di recupero. Cito, poiché la storia non può salvare le sofferenze dei bambini di Oradur, anche se ha una direzione, non ha un senso, come voleva anche un protoesistenzialista come Ivan Karamazov. Con una prudenza che non ritroveremo nelle opere successive e nella caratterizzazione del gruppo infusione del rivoluzionario, Sartre ci mette in guardia. Cito e concludo a questo punto, nessun motivo di preparare per degli estrani e degli sconosciuti il regno della morale o della felicità al prezzo dell'ingiustizia o dell'infelicità di oggi. Grazie.